Sono Donatella Natoli, racconterò l'esperienza di una biblioteca scolastica aperta al quartiere che è stato possibile realizzare nell'istituto comprensivo Maneri in Grazia, Don Milani. È una biblioteca piccola ma molto interessante perché ha una parte chiusa e una parte aperta per cui è possibile tutto l'anno usufruire di questi spazi e poi perché ha due obiettivi, uno quello di rinnovare la didattica rispetto a conoscenze soprattutto trasversali ai grandi pensatori del passato e contemporanei e poi l'altro di confrontarsi con tutte le esigenze che il quartiere esprime e quindi far sì che tutti, gente di tutta l'età, dai bambini partecipano perché sanno quali sono le risorse e soprattutto possono in qualche maniera riflettere su come queste risorse potrebbero essere utilizzate per il bene del quartiere.